avere o essere. A un certo punto abbiamo perso la strada. Il formicaio umano è più ricco che mai. Disponiamo di maggiore benessere e di più tempo libero. Eppure ci manca qualcosa di assolutamente decisivo. Ci sentiamo meno umani. Da qualche parte abbiamo perduto le nostre misteriose prerogative. De Saint-Exupery. Vi dice niente la frase va a finire che mi ammazzerò di lavoro? Se qualche volta l'avete pronunciata il quarto pianeta è forse il posto che fa per voi. È quello dell'uomo d'affari. Anche in questo caso il messaggio è già contenuto nella scena iniziale. Questo uomo era così occupato che non alzò neppure la testa all'arrivo del piccolo principe. Ne la alzerà. Non si può nemmeno essere certi che i suoi occhi incontrino almeno una volta quelli del piccolo principe. Ecco che di nuovo abbiamo a che fare con un malato di dipendenza. Quest'uomo soffre addirittura di due dipendenze. È un drogato del lavoro e ha l'ossessione del possesso. Conta, conta e conta. La sigaretta che gli spunta dall'angolo della bocca, probabilmente alla sua terza dipendenza, si è spenta. L'uomo d'affari non ama le domande. Conta e non vuole neppure rivelare esattamente che cosa. Sono un uomo serio e io non mi diverto con delle frottole. Ma il piccolo principe, che è molto più coerente di noi e mai aveva rinunciato a una domanda, una volta che l'aveva espressa, non si lascia scoraggiare. L'uomo d'affari si indispettisce. In 54 anni è già la terza volta che viene disturbato, brontola. Una prima volta, dice, in tutta serietà, si è trattato di un maggiolino. Dunque di un grazioso animaletto. Ma egli ha notato soltanto il rumore spaventoso e ha fatto quattro errori in una addizione. La seconda volta è stata una crisi di reumatismi. Non mi muovo mai. Quest'uomo preferisce ammalarsi piuttosto che andare a passeggio o a nuotare o a fare una bella gita. Non ha tempo di girondolare. Egli conta milioni di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo. Non vuole pronunciarne il nome. Non ha il tempo di fantasticare. Si tratta delle stelle. Con logica disarmante, il piccolo principe chiede che cosa ne faccia di esse. La risposta è immediata. Niente, le possiedo. E il piccolo principe pone la domanda decisiva. E a che ti serve essere ricco? L'uomo d'affari risponde tautologicamente, cioè insensatamente, a comprare altre stelle se qualcuno ne trova. Nessuno prima di lui ha mai avuto l'idea di possedere le stelle. Con la sua abilità negli affari l'ha fatta brevettare. Ma che cosa se ne fa delle stelle, lontane miliardi di anni luce? Le ammira, le conto e le riconto. Ma questa spiegazione non soddisfa il piccolo principe. Un fazzoletto di seta si può mettere intorno al collo, riflette, e un fiore si può coglierlo e portarlo con sé. Però questo non si può fare con le stelle. L'uomo d'affari osserva. No, ma posso depositarle alla banca. Scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta in un cassetto. Il piccolo principe è sconcertato. Tutto qui. Sì, per l'uomo d'affari questo è sufficiente. Il piccolo principe, che non si lascia facilmente ingannare, lo giudica realisticamente. Questo qui ragiona un po' come il mio ubriacone. La sua filosofia di vita, pensa il piccolo principe, non è molto seria. Entrambi i giudizi sono giusti. Quest'uomo d'affari non è una persona dirigente, ma un drogato del lavoro. Vi si attacca come un tossicomone alla siringa. Tempo libero è per lui una parola straniera. Non sa comunicare, né avere contatti, né provare emozioni. Che cosa rimuoverà mai la sua dipendenza? Non lo sappiamo. Forse il desiderio di vitalità e di amore. La terapia con le persone e lavoro dipendenti si rivela spesso molto difficile. Questa dipendenza, infatti, è insolita perché gode dell'accettazione e del riconoscimento sociali. Chi vorrà mai definire drogata una persona di successo? Le società altamente industrializzate, inoltre, hanno tratti patogeni che ci rendono lavoro dipendenti. E molte istituzioni e aziende hanno strutture che inducono a tale dipendenza. Nel libro Subsystem Arbeitsplatz, Il posto di lavoro come sistema che crea dipendenza, Ann Wilson-Chef e Jan Fassel osservano che la società in cui viviamo ha bisogno di dipendenze. La sua effettiva natura le alimenta. Sono necessarie perché la persona che si adegua meglio alla società non è né morta né viva, ma semplicemente anestetizzata come uno zombie. Quando si è morti non si può lavorare per la società. Se si è interamente vivi si possono dire molti no. No al razzismo, alla distruzione ambientale, alla minaccia atomica, alla corsa agli armamenti, all'acqua inquinata e al cibo cancerogeno. È dunque nell'interesse della società promuovere le cose che eliminano la tensione, che ci portano a occuparci delle nostre fisse e che ci anestetizzano in modo pressoché impercettibile trasformandoci in zombie. Non solo dunque la società promuove le dipendenze, ma i suoi stessi membri funzionano come drogati. Come lavoro dipendenti abbiamo congelato le nostre emozioni. Rimuoviamo paura e risentimento, preoccupazioni e rabbia. Dal punto di vista spirituale siamo alla bancarotta. Spesso paghiamo con la vita il fatto di pretendere costantemente troppo da noi stessi. Non importa se siamo un manager, un operaio o una casalinga perfezionista. Se non lavoro come un pazzo, mi ha confessato una volta uno dei miei pazienti, cado in depressione. Ma in ultima analisi, neppure l'abilissimo uomo d'affari deve essere preso seriamente, perché anche a lui sfugge il senso della vita. In avere o essere, lo psicologo Erich Fromm descrive le catastrofiche conseguenze dell'ideologia del denaro. Per soldi vendiamo persino la nostra madre terra. Eravamo in procinto di creare un mondo secondo, servendoci del mondo naturale, servendoci del mondo naturale soltanto come una serie di elementi di costruzione per edificarne uno nuovo. Il nostro spirito di conquista e ostilità si ha resi ciechi all'evidenza del fatto che le risorse naturali hanno precisi limiti e possono finire con l'esaurirsi e che la natura si ribellerà alla rapacità umana. L'orientamento avere, secondo Fromm, è caratteristico dell'umanità nella società industriale, dove la caccia al denaro, alla fama e al potere è posta al centro della vita. Sta a noi decidere se scegliere l'esistenza dell'avere o quella dell'essere. Che cosa significa? La persona avere, come il nostro uomo d'affari, è posseduta dall'ossessione dell'impoverimento. Non si fida del mondo né del suo prossimo. Ha fiducia solo in ciò che possiede. Non ha un rapporto vitale con le sue proprietà. Si lascia anzi manipolare dalle cose materiali. Il suo scambio con il mondo si è interrotto, afferma più avanti Fromm. Nella modalità dell'avere, la propria felicità risiede nella superiorità sugli altri, nel proprio potere e, in ultima analisi, nella capacità di conquistare, depredare, uccidere. Quando si ammala, la persona avere non riflette sul suo essere malata, ma reagisce materialisticamente come un proprietario. Nel caso di artrosi al ginocchio esige un'articolazione artificiale. Risolve l'aritmia cardiaca con un pacemaker e cura un reno malato con un reno artificiale. Chi si preoccupa da mattina a sera dell'avere, come l'amministratore delle stelle, deve temere ogni cambiamento, la corrente della libertà, fosse pura soltanto l'ala di un maggiolino. L'uomo d'affari avrebbe bisogno di diventare una persona essere, la quale, spiega Fromm, ha come caratteristica fondamentale l'essere attivo, dare espressione alle proprie facoltà e capacità e alle molteplici doti che ogni essere umano possiede. La persona essere ama, è piena di gioia per le sue potenzialità spirituali e materiali, per le sue capacità produttive, per la sua armonia vitale con il mondo. È legata a molte persone. Saint-Exupery, in vento, sabbia e stelle, afferma «c'è un solo, vero, lusso» ed è quello delle relazioni umane. La persona essere ama la libertà, il futuro aperto, la sorpresa. Non si fa schiavizzare dal rapporto ossessivo con il denaro. La pensa piuttosto come Nietzsche in Così parlò Zaratustra. Chi possiede poco è tanto meno posseduto. La persona essere ha la capacità di essere sempre presente in qualunque luogo si trovi, di creare gioia dando e condividendo, non monetizzando e sfruttando gli altri. In la cittadella Saint-Exupery scrive «tanto più dai, quanto più ti resta da dare». La persona essere ama l'amore e nutre un profondo rispetto per la vita. Ci fa notare From è in grado di rinunciare al proprio egocentrismo ed egoismo e di accettare la tragica limitatezza dell'esistenza umana. Sa sentirsi tutt'uno con ciò che è vivo, rinunciare dunque all'obiettivo di conquistare, sottomettere, sfruttare, violentare e distruggere la natura. E sa tentare invece di capirla e di cooperare con essa. Ha così a disposizione se è il mondo come una proprietà di tipo molto particolare. Il denaro è un mezzo di scambio e di trasporto dello zelo umano. Lo aveva constatato già Kat Marx. La denaro-dipendenza, che dopo il miracolo economico si è patologicamente metastatizzata, danneggia il nostro animo. In tutta la sua opera, Saint-Exupery ha sviluppato questo pensiero in sempre nuove variazioni, elaborando un positivo controprogetto di lavoro, ricco di significato. In Vento, Sabbia e Stelle scrive «La grandezza di un mestiere è innanzitutto forse quella di unire gli uomini. C'è un solo vero lusso ed è quello delle relazioni umane. Lavorando per i soli beni materiali, costruiamo con le nostre mani la nostra prigione, ci rinchiudiamo solitari con la nostra moneta di cenere, la quale nulla ci dà che valga di vivere». Chi si abbandona alla brama del denaro, al furore lavorativo e alla spietata concentrazione sui propri affari, diventa un mostro. Il lavoro non si esaurisce nel guadagno, va oltre, si leggene la cittadella, se ti regalassi un bel patrimonio, come nel caso di una eredità inaspettata. In che cosa ti arricchirei? Diventerai più ricco solo trasformandoti, perché tu sei seme. Il poeta volante, che ebbe la sua parte di esperienze e divise la vita con i suoi molti amici, era, in ogni fibra del suo corpo e del suo animo, una persona essere. Se faccio il bilancio delle ore che hanno contato, di sicuro trovo quelle che nessuna ricchezza mi avrebbe procurato. Quella notte di volo e le sue centamila stelle, quella serenità, quella sovranità di poche ore, non si comperano con il denaro. Quell'aspetto nuovo del mondo, dopo la tappa difficile, quegli alberi, quei fiori, quelle donne, quei freschi sorrisi colorati nuovamente dalla vita che l'alba dinanzi ci ha resa, no, il denaro non li compra. Per il piccolo principe le stelle sono semplicemente stelle e non un investimento speculativo. Non sa ancora niente di indici azionari, rialzi e ribassi, crolli di borsa, capitali a rischio e transazioni a termine. Possiede tuttavia una cosa molto più importante, la coscienza degli obblighi connessi al possesso. Io, disse il piccolo principe, possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni. Possiedo tre vulcani dei quali spazzo il cammino tutte le settimane. Perché spazzo il cammino anche di quello spento, non si sa mai. È utile ai miei vulcani ed è utile al mio fiore che io li possieda, ma tu non sei utile alle stelle. L'uomo ad affari aprì la bocca, ma non trovo niente da rispondere.